Nuova settimana, nuovo appuntamento con tra le diche consigli di lettura. In tanti ci chiedete, dopo aver visto queste puntate, libri che raccolgono testimonianze di persone, di confratelli, di sacerdoti che hanno avuto la grazia di incrociare sul loro cammino il santo di Pietrelcina. E allora, riproponiamo, perché non è la prima volta, è un libro di qualche anno fa, edizioni Padre Pio da Pietrelcina, di padre Marcellino Iassenzaniro, il padre, testimonianze, la missione di salvare le anime. Perché quello che ho scoperto, insomma, vi piace molto, è quando vengono raccontati episodi fatti riguardanti la vita del santo frate di Pietrelcina. Allora, Padre Pio era un singolare confessore e c'è un episodio, riportato a pagina 68, di un farmacista di Urbino, S.E. Puntate, quindi non conosciamo né il nome né il cognome, che era sceso a San Giovanni Rotondo nel 47 per confessarsi da Padre Pio. Ma gli avevano raccomandato di essere preciso e rapido nell'accusa. Perciò preparò un foglietto e su questo foglietto scrisse una lista di peccati. Quando fu ai piedi del santo, si accinse a leggere tutto d'un fiato quello che aveva notato. A un certo punto, Padre Pio interrompe la lunga litania, dicendogli, stati zitto, chiacchierone. Di piuttosto che ti arrabbi spesso, non è vero che ti arrabbi? Sì, padre, riconobbe il penitente. Ebbene, stai attento all'ira, perché da questa dipendono tutti i tuoi peccati. Questo uno dei tanti episodi. Ma leggiamone un altro, visto che sono molto brevi, riportati appunto in questo libro di Padre Marcellino. Una suora, infermera presso un ospedale, aveva un affetto per un medico. Nulla di grave, ma la voce della coscienza non le concedeva pace. Pensò tanto a Padre Pio, l'unica persona che avrebbe potuto chiarire lo stato della sua anima. Ottenne finalmente la possibilità di confessarsi da lui. Cominciò l'accusa dei peccati, ma prendeva tempo, prima di manifestare il problema che l'angustiava. Il padre ruppe l'induge e tu no. L'altro, quando me lo dici? Dopo quell'iniziale titubanza, manifestò tutto il suo stato d'animo. Vatti a trovare un confessore. Io non ti do la soluzione, fu la risposta, che chiuse il colloquio. E poi raccontiamone un altro. A proposito appunto di questo, vediamo magari uno un po' più breve. Maria Manzi racconta quanto era capitato alla sua mamma. Dovendo scendere da Biella a Gioia del Colle, suo paese natale, decise di andare anche a San Giovanni Rotondo per parlare col padre. Andò, si confessò e gli disse che aveva mancato di andare a messa la domenica precedente, perché pioveva tanto. Sì, ma anche quando ti sei messa in viaggio per venire qui pioveva, osservò Padre Pio. Non aggiungo nient'altro perché sono davvero episodi di testimonianze che non hanno bisogno di nessun commento, alquanto insomma siano così espliciti questi fatti che hanno riguardato le tante persone che si sono avvicinate alla confessione attraverso Padre Pio. Quindi, Padre Marcellino Iasenzanilo firma per edizioni Padre Pio da Pietrelcina, Il Padre, la missione di salvare le anime, testimonianze. E ora un libro, edito dalla San Paolo, firmato da un giornalista del Tg1, Piero D'Amosso, con un titolo davvero molto interessante. Giornalismo dell'alba, storie, responsabilità e regole per un'informazione di dialogo. Giornalismo dell'alba perché ormai da diversi anni Piero D'Amosso è caporedattore del Tg1, quindi si sveglia molto presto alle 5 del mattino per le prime edizioni del telegiornale. Il giornalismo dell'alba, come scrive nell'introduzione D'Amosso, ci spinge a cercare i parti naturali delle notizie, a cercare di non mescolare realtà e finzione e ci dimostra che non vale il detto, ma si è sempre fatto così. E naturalmente, forse anche per le condizioni più essenziali in cui si svolge, una scuola di realtà. In questo senso è anche un esercizio di ricerca della verità. Senza che questo itinerario sia completamente dominato dall'emozione. È necessario un paziente lavoro di ascolto per mettersi in discussione prima di discutere, per rileggere il mondo uscendo da autosoggettivismi e autoreferenzialità, cercando il dialogo sempre. A questo riguardo, dice D'Amosso, vanno fatte alcune riflessioni sul potere dell'immagine e sugli immaginari che vengono alimentati o creati dai media. Viviamo nella società dell'immagine, alimentata dal web e dai social, ma in particolare da un profondo bisogno di identità, che è anche identità relazionale, reticolare, di appartenenza a un gruppo o una comunità. Questa si costruisce attraverso viaggi anche interiori e nel rapporto con gli altri, a volte difendendosi e a volte invece aprendosi fiduciosi. Sono dinamiche che entrano nelle notizie, nella loro interpretazione. Raccontare la realtà non significa escludere una partecipazione attiva. Il silenzio che a volte accompagna il giornalismo dell'alba porta a immergersi nella realtà, anche quando non se ne hanno le possibilità e a condividerla. È una sensazione centrale che spinge anche a qualcosa di romantico, una miscela di coraggio, altruismo, spontaneità contro la macchina del pettegolezzo, che sta distruggendo la verità anche all'interno degli imperi dell'informazione. E poi, appunto, ci sono tanti altri esempi. Quando racconta Piero D'Amosso in questo libro anche, potremmo dire, la forza propulsiva del bene, la missione del giornalismo in una società democratica, conclude con tre interviste a tre illustri colleghi, che sono Ezio Mauro, Enrico Ventana e Mario Calabresi. Davvero, un libro interessante. Giornalismo dell'alba, storie, responsabilità e regole per un'informazione di dialogo. Libro firmato da Piero D'Amosso. Proseguiamo ora con un libro firmato dal rettore del seminario di Sion in Svizzera, O.L. Pralong, intitolato Il coraggio di essere se stessi. Smascherare i meccanismi di difesa nella vita quotidiana, è il libro edito dalle Paoline. Racconta, in questo libro, l'autore fa un po' un resoconto del fatto che i nostri rapporti con gli altri sono spesso condizionati, a volte addirittura compromessi, da meccanismi di difesa inconsci. In queste pagine vengono presi in considerazione i più diffusi, a ciascuno dei quali corrisponde un tipo psicologico. Ad esempio c'è il piccolo boss, il mastino, il calimero, che sono la personificazione, la negazione, l'aggressività e il vittimismo calimero. Quindi dopo aver messo in luce il potente manipolatore di queste dinamiche inconsce, si propongono poi delle piste pratiche per contrastarle con strategie di difesa coscienti. Cercare di smascherare i meccanismi di difesa, infatti, significa avere il coraggio di essere se stessi. Vado subito alle conclusioni, perché il libro comunque è ricco di spunti molto interessanti, quindi andrebbe davvero letto e metabolizzato pagina dopo pagina. Comunque nella conclusione l'autore scrive Un po' di umorismo per favore. Se sei scoppiato a ridere riconoscendo in te uno o più meccanismi di difesa, puoi stare tranquillo. Non sei né malato né impossibilitato ad avere relazioni. Sei semplicemente una persona che ha individuato delle strategie, la maggior parte inconsce, per proteggersi ed entrare in contatto con gli altri, evitando di ferirsi o cercando di offendere il meno possibile. Ridere di sé è segno di buona salute, è anche la prova che c'è il desiderio di fare un lavoro su se stessi. Puoi quindi osservare questi meccanismi dall'esterno e utilizzarli in modo da non informare troppo la realtà. Se invece non ti sei sentito toccato dal testo, allora due sono le conclusioni che puoi trarre. Per prima cosa, dimentica questo libro, mettilo in un angolo o meglio ancora passalo a una persona che ti avvelena l'esistenza. Non si sa mai. Secondo, hai forse avuto paura di affrontare te stesso? Troppo doloroso? In tal caso, lascia stare per un po' questo libro, riprendilo in seguito, in condizioni di massima tranquillità, ed esaminalo solo sul piano razionale, come un fatto che si presenta da sé. In alternativa, puoi leggere in gruppo e scambiare con altri le tue impressioni. E poi, se hai riso forzatamente, perché infastidito da quello che hai letto, tanto meglio. Questo libro ti permetterà di mettere il dito nella piaga e di quei soldatini che ti manipolano a tua insaputa, che t'avvolta avvelenano la tua vita e quella degli altri. Sta ora a te stesso essere il capo del tuo esercito. E quindi, per essere i capi del proprio esercito, quindi, come dire, gestire le proprie emozioni, ma anche avere il coraggio di essere se stessi, così come il titolo del libro, vi consiglio questo titolo, edito dalle Paoline, firmato da Joel Pralong. E concludiamo con un libro che ha davvero la freschezza dell'umorismo. Infatti, si intitola Umorismo dal Pulpito, edito dalla LDC, firmato da Pier Giorgio Gianazza, che in un certo senso sottolinea come l'incubo anche del miglior predicatore siano gli sbadili durante l'Omeria. Ebbene, in questo volume, l'autore torna a raccontare storie di fede e di allegria con aneddoti e curiosità su quello che a volte diventa il momento più monotono della celebrazione, perché a volte basta davvero un pizzico di umorismo per risvegliare l'attenzione di un pubblico distratto. E allora, qual è il colmo di un predicatore? Entrare in argomento con un'uscita spiritosa. Andiamo proprio a vedere, a pagina 13, l'elenco dei colmi. Per un prete croato, tenere un'omedia in serbo. Per un predicatore, appunto, entrare in argomento con un'uscita spiritosa. Per un predicatore franco e sincero, avere peli sulla lingua. Qual è il colmo per il curato che predica? Essere curato senza essere ammalato. Per un predicatore calvo, avere un diavolo per capello. Per un predicatore di grido, non avere voce al microfono. Per un predicatore brasiliano, avere la voce argentina. Per l'altoparlante, posto sul pulpito sentirsi male, per un avaro che sente la predica, ascoltare senza interesse. Davvero, tantissimi spunti divertenti, perché ci sono anche le gaffe, gli indovinelli, la misura del tempo, le occasioni, che potrebbero, come dire, alleggerire le prediche dei tanti parroci e sacerdoti che celebrano la messa la domenica, ma, insomma, quotidianamente. E poi, perché no, anche per i parrocchiani e per chi vuole farsi una bella risata con questo umorismo dal pulpito edito dalla LDC a firma di Pier Giorgio Gianazza. Con questa segnalazione vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima occasione con, tra le righe, consigli di lettura. Grazie per ora. Grazie a tutti